buongiorno e buon sabato allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio di quelli che condividono commento ne sostengono questo canale forza ragazzi che 5 mila ci possiamo arrivare nel momento in cui registro questo file spero che siano arrivate a tutti le ricariche purtroppo sono partiti anche i 32 33 mila messaggi di sospensione diciamo che mentre la prima versione era molto asciutta molto stringata qui scusatemi ma è molto perculatoria perché si ti togliamo le redici te lo mettiamo in sospensione e magari visto come siamo ingolfati tra noi e comuni anche se tu ne avessi diritto perché sei in carico ai servizi sociali non prendere comunque altri denari perché non saremo in ritardo però poi sempre fa la domanda per l'SFL perché con i ricchi 350 euro che dureranno quanto durerà il corso e ma puoi fare meraviglie considerando che è un rimborso spese e ovviamente se il corso non è vicino nella tua città dovrai pagarti il viaggio e tutto quanto quanto siamo buoni quanto vogliamo aiutare gli operai quanto facciamo girare notizie tarocche sui tg di regime che devono assolutamente raccontare la favolosa massa di persone che sono al lavoro che sono state assunte ribadisco indeterminato vuol dire che non ha fine del tempo caro cari giornali mediaset la maggior parte delle assunzioni è a tempo determinato le balle quando lo dovete dire cercate di dirle in modo un po più serio è un modo un po più velato perché poi avete tanta spina dorsale che sotto il video di cui parlerò tra poco avete tolti i commenti noi anzi voi non ce li mettete mai perché avete paura di quello che vi possono dire per cui io l'ho trovata l'ennesima cosa vergognosa comunque della prossima settimana cominceremo a parlare dell'SFL e della situazione dei sospesi perché secondo me ve l'ho detto l'unica soluzione vera è comunque la via legale la via legale senza fare prigionieri scusatemi ma magari la vostra assistente sociale vi è simpatico il vostro assistente sociale vi è simpatico non mi interessa non mi interessa perché in quel momento in questo momento dovete difendere dovete difendere la vostra sopravvivenza e se uno ha sbagliato non importa quanto può esserti simpatico deve prendersene la responsabilità detto questo ho sentito grazie anche chi me l'ha segnalato il discorso del dormiente al meeting di comunione liberazione luogo in cui si è tutti infavorati da fuori evangelico peccato che poi non lo si mette in pratica sono bravi tutti a straparlare del messaggio di pace di tolleranza di aiuto per i più bisognosi del rabbino di nazare quando poi si tratta di metterlo in pratica diventano tutti come meduse avete il cervello infelato nell'acqua e quindi non lo fate mai a parole siete una cosa e con i fatti siete un'altra a partire dal tizio che ogni tanto esce a fare il predicozzo cosa dire di questo discorso aulico pomposo pieno di frasi alte gonfio ho letto anche il comunicato ansa in cui c'erano complimenti sperticati non ha speso una parola per i poveri italiani una non l'ha spesa manco mezza soliti discorsi pomposi soliti discorsi tronfi una finta bacchettata sulle mani a questo governo per la questione migranti ma immediatamente poi ha dato la sponda è la colpa di quelli là che stanno ora che stanno lassù vero tra l'altro ma perché la tua premia che quando era l'opposizione strillava è finita la pacchia tutte le volte che va là è più piatta di uno zerbino niente per gli italiani non ha speso una parola questo questo dormiente questo personaggio e io vi ho sempre detto il rispetto non è alla carica ma quello che uno fa quando ha quella carica cosa volete che vi dica ha venduto la sua dignità ha venduto il suo ruolo di protettore del popolo italiano per poter stare lì altri sette anni in cella criogenica non ho il minimo rispetto per questo individuo non mi importa cosa possono dire io non lo posso rispettare non posso rispettare un uomo che vede degli italiani che stanno soffrendo ed è preoccupato di fare discorsi pomposi aulici che piacciono una platea di gente con cui non abbiamo buoni rapporti ve lo posso dire tranquillamente a noi quei cellini stanno tremendamente sul cazzo scusate il termine ma è quello che stanno tremendamente sul cazzo perché rappresentano quella parte più retriva e tendenzialmente favorevole a certo scurantismo della chiesa cattolica di roma si fingono buoni ma non lo sono dentro la bontà è tutt'altra cosa e quindi il discorso è stato perfettamente applaudibile bravo bravo a faccio notare che l'avvenire è un altro dei giornali finanziati ecco i soldi pubblici bravo bravi forse anche famiglia cristiana vabbè bravo bravo bravissimo e intanto degli italiani non hai parlato la stessa manifestazione in cui un ministro che è lì perché parente della premier è il cognato dice una cosa vergognosa e nessuno di voi che si alza e proprio per ciò che insegnava il rabbino di nazare gli va a dire davanti vergognati tu qui non ci potresti stare ma va bene così va bene così ragazzi va bene così nel senso che qualcuno questa fetenzia l'ha votata qualcuno li ha messi lì e adesso che questa fetenzia sta dimostrando fattualmente di non essere capace di gestire neanche lo scarico di un cesso quando ci sarebbe un momento di richiamare queste persone all'ordine di richiamarle e fargli capire che lo stato è composto da tutti i cittadini e non soltanto da quelli che piacciono a loro questa persona non spende una parola sta sempre nel suo nido sta sempre nel suo guscio e come vi avevo detto proprio in merito al pd pretendono da persone che sono state abbandonate dallo stato di appoggiare posizioni di questo tipo se lo stato non aiuta queste persone come fai a convincere queste persone a seguire certe cose ad appoggiare certe posizioni e questo tu caro dormiente chiedi al popolo italiano di fare di cambiare un atteggiamento senza però dargli nulla in cambio tu lo abbandoni a se stesso lo abbandoni nelle mani di un gruppo di ricottari carciofari incompetenti esaltati megalomani coatti e poi ti lamenti che il popolo non ti segue su questi discorsi ti lamenti ve l'ho detto io la mia opinione su vanna ce l'ho detto e non ci torno su però che si stupisca che molta gente appoggi quelle posizioni ma si è fatto una domanda perché la gente appoggia quelle posizioni perché quello che tu l'ho detto tu pretendi cose senza dare nulla in cambio tu dice la gente fate così fate cosa perché l'ho detto io ma noi abbiamo dei problemi ama i vostri problemi non contano prima fate queste cose no no questa persona questo dormiente non sarebbe lì se in italia si votasse direttamente per per questa carica ma soprattutto non sarebbe lì se quando c'era da sistemare i casini quello è non avesse fatto la finta e ovviamente il pd gli è andato subito dietro è è una figura basta ascoltare masala come ne parla è una figura super partes no lui non è una figura super partes lui una figura invisibile che è tutt'altro io preferisco un presidente che non sia super partes ma che scende in campo andatevi a sentire cosa diceva pertini dei corrotti dei corrotti di chi accettava la corruzione il corrotto è un criminale che colpisce lo stato chi accetta la corruzione è compice quindi criminale anche lui questi sono discorsi da presidente quello che dice questo qua sono discorsi buoni per i salotti che ho mai visto come brave buono buono con chi gli fa comodo non è questo questo che deve fare un presidente e chiudo perché ovviamente dopo la scemenza detta dall'olobesita quella patetica stupidaggine sto usando dei termini molto eufemistici figuriamoci se non arrivava la seconda carica dello stato il padre di una persona che è indagata per un reato gravissimo a dire perché la schline ovviamente cosa fa ha detto ha detto la sua frasetta poi con i fatti non fate un cazzo eh manifestazioni così niente però alle feste così alle convention fai la tua bella sparata e secondo te hai già fatto tutto e cosa fa invito la schline ad assaggiare un piatto povero come la pasta alla norma io non so se la russa ci è o ci fa non so se quel tizio che ha un black decker rotto al posto dell'ugola ci è o ci fa ma se ci è ragazzi non si può tenere una persona così in un posto importante non lo potete tenere neanche a fare il guardiano della tazza del cesso se ci fa idem non si può tenere una persona così squalidamente ipocrita perché il discorso non è il piatto e con cosa lo fai e merita testa di ficcateci quello che volete perché se tu puoi fare la pasta alla norma ma se la pasta che hai è l'ultima marca scadente che ci trovi le verdure e tutto quanto sono quelle che puoi trovare in giro al prezzo più basso sarà pure un buon piatto ma sarà sempre fatto con ingredienti scadenti questo era il senso del problema ovviamente capisco che uno che ha educato i figli come gli ha educati lui non ci possa arrivare perché come io non educherei mai i miei figli così quelli non sono stati educati quella è lasciamo perdere va perché non dovrei andare sul pesante però ricordatevi che le me da un albero marcio non nascono frutti sani detto questo quel ragionamento che fa questo coatto è identico a quello di Ludo Brigida la stessa misura la stessa profondità non c'entra la qualità del piatto anche la carbonara è un piatto povero ma se lo fai con le uova che stanno lì per andarsene all'altro mondo se lo fai con il formaggio quello che trovi se lo fai con la pancetta o guanciale quella che trovi non è la stessa cosa se è fatta con prodotti di qualità e il prodotto di qualità costa punto e i poveri non se lo possono permettere anche la polenta è un piatto povero ma fatela con la farina buona e con quella cattiva vi accorgete della differenza ma queste cose a una classe politica arrogante piena di sé pomposa squalida coatta e burina come questa come gliele spieghi è come cercare di spiegare meccanica quantistica a un bambino di cinque anni particolarmente idiota non ci arrivano loro sono l'esemplificazione della burinagine del coatismo più becero e squalido che si è sviluppato negli anni nella politica lo stesso sistema che consente a buffoni come il fiorentino e quell'andato di cervello che ha fatto sì che rimanesse ancora lì di stare all'interno del parlamento ci stanno? ci stanno e dicono queste cose perché la persona che dovrebbe chiamarli e dargli una regolata e richiamarli all'ordine sta sempre zitta si preoccupa soltanto di fare discorsi che piacciono alla gente che piacciono che non sono quelli che vivono nel mondo reale questa è la realtà ed è ora che questa realtà finisca perché gli italiani non ce la fanno più punto e basta ciao a tutti ciao a tutti